Sono Michelangelo Di Toma, vi introdurrò nel mondo di Ian McLeod e della sua prima distilleria acquistata, Glen Goyne, 2003. Si racconta un aneddoto, raccontato da Dave Broom, un giornalista che l'ha intervistato. Il giorno che Leonard Russell decide di acquistare questa distilleria dalla vecchia proprietà, i vecchi proprietari aspettarono che sul conto corrente passasse il bonifico di Leonard Russell per l'acquisto della distilleria e lui, aspettando questo bonifico che passasse, stava fuori dalla distilleria, seduto in un furgone, aprì una bottiglia di whisky, sorseggiò questo whisky, aspettando l'ok da parte del vecchio proprietario. Una volta che tutto era formalizzato, i soldi erano passati sul conto, Leonard Russell, Ian McLeod era il nuovo proprietario di Glen Goyne, si avvicina e entra nelle distillerie, trovando timorosi tutti gli operai che lavoravano. Per tranquillizzarli, ma soprattutto perché aveva già in mente di fare questo discorso, disse, guardate, ho perso il libro su come si fa Glen Goyne, ho perso le chiavi su come si apre e si chiude questa distilleria, vi pregherei cortesemente di continuare a fare quello che avete fatto fino adesso. E io vi sosterrò. Da quel momento ad oggi, tutte le persone continuano a lavorare in questa distilleria, molto contenti della nuova proprietà, è una storia raccontata da lui in un'intervista, ci fa molto piacere riconoscere i tratti di un imbottigliatore indipendente, di uno scozzese, che acquista una distilleria, ma soprattutto ne rispetta le tradizioni. È una distilleria particolare Glen Goyne, è per la metà nelle Highlands, poi c'è la strada, e nell'altra metà, nei magazzini di stoccaggio, nelle Lowlands, le terre basse. Quindi è una distilleria che è al confine, ma ha una caratteristica di essere un whisky in cui tutto viene fatto in maniera leggera e soprattutto lenta. Lentamente si prendono i cereali, si fanno maturare, si fanno fermentare, lentamente si fanno distillare, e alla fine il whisky è un whisky che risente di questa lentezza. Quello che noi degusteremo in questo momento, nella nostra occasione speciale, avremo bisogno di un whisky non torbato, 59,3 gradi, un whisky quindi come da barile, l'età media per questo whisky è intorno ai 12 anni, ma non c'è scritto in etichetta, quindi può variare a seconda di quello che è l'influenza climatica per l'invecchiamento, e quando abbiamo nel bicchiere questo whisky, la prima cosa che facciamo, guardiamo il colore, che è un giallo oro particolarmente intenso e vivace, ne sentiamo il profumo, che è tipico di Glengoyne, la mera, la pera, gli agrumi, e anche un po' di floreale, la lentezza nella produzione del whisky la ritroviamo nel bicchiere, ma siccome l'alcol ci assale nelle narici, soffiamo nel bicchiere come vi ho raccontato, tiriamo su con il naso, e sentiamo questi profumi meravigliosi che ci avvolgono, è un whisky a chi piace, e si avvicina a Glengoyne, continuerà poi sempre a berlo, perché ti rilascia, è un po' come se ti tranquillizzasse, ti rilascia sempre quelle stesse sensazioni, lo beviamo insieme, ed eccole le sensazioni di Glengoyne, esattamente quelle che cercavo, mi tranquillizzano, mi rilassano, ecco, vogliamo nella nostra occasione speciale rilassarci con un whisky, degustarlo in maniera serena, senza essere troppo impegnati a capirlo, a leggerlo, ma magari abbiamo un nostro libro, o magari in un momento particolare della giornata, abbiamo solo il piacere di bere un whisky, e di sentire alcuni aromi, la pera, la miera matura, la ciliegia, quanti aromi riesce a darci Glengoyne, la sua lentezza la ritroviamo nel bicchiere, diventa la nostra lentezza, ancora l'olfatto, ne sentiamo un profumo, l'alcol pronunciato per i 59 gradi ovviamente, soffiamo nel bicchiere, tiriamo su, sentiamo tutti questi profumi, adesso arriva la canamella mu, adesso arriva il cereale, adesso arriva la frutta secca, ma poi questa sensazione di agrume, che ogni tanto si sente, e poi andiamo a degustarlo, e lo ritroviamo nel bicchiere, l'occasione speciale, un'occasione per bere, un buon single malt, Sláinteva! un incidente di s rush. Un incidente di s